E bella a tutti ragazzi sono Nicola Di Bradino e oggi siamo in questo video Oggi ragazzi perché stiamo facendo un video speciale? Perché oggi ragazzi guardate cosa ho preso Ve lo faccio vedere, guardate una cosa che ho preso da MD Finalmente ragazzi ho preso la bibita di Tony F Cioè ragazzi è bellissimo, cioè ragazzi non l'ho mai assaggiato È da due mesi, sì è da tre mesi che non l'ho assaggiato questa bibita di Tony F Proviamo quella azzurra perché quella mental lime lo proviamo quell'altra settimana prossima Oppure va bene, allora come vedete ragazzi questo è da Yammer's Perché Tony F l'ha fatto con le bibite, ha deciso di fare quelle, questo è un energy drink ragazzi Questo è da Yammer's ragazzi, ok Allora c'è scritto Gotoni, vedete qui c'è scritto Gotoni Poi c'è il canter che è un rapper ragazzi Io la conosco ragazzi, l'ho ascoltato ragazzi Però il taxisola non lo conosco Ragazzi l'energia sono 197 kcal E 47, no, KG E 46 kcal Grassi 0 grammi Il sale contiene 0,15 grammi I gniacina 7,0 mg Allora, vabbè ragazzi Prodotti in Polonia Ok ragazzi 250 ml Lattina piccolissima, ok Prima di assaggiare con quella bibita di Tony F Lasciate like Iscrivetevi al canale Ti va a riccappare Vabbè ragazzi Qui Yammer's Hit Ok Ok Qui TikTok e Instagram Ok ragazzi Non perdiamoci tempo Apriamo la bibita di Tony F È azzurro ragazzi Iniziamo Ok Ci provo ad aprirla ragazzi Aperto Sentiamo l'odore Oh No raga Sembra Sembra la Rebu normale Adesso vediamo ragazzi No vabbè No vabbè No raga È azzurro Sembra il mare di Sardegna Ok aspettate Ok Raga No raga Non aspettavo questo colore Vabbè Assaggiamo Sembra Rebu normale O la nostra è classica Vabbè In voto Quella azzurra di Tony F Li diamo 10 Raga è bellissima Cioè C'è scritto Go Tony Se voi avete assaggiato Il bibito di Tony F Lasciate Lasciate like E iscrivete al canale Buonissima Original taste Sembra un po' di Monster classica ASMR Ok Aspettate ragazzi Ho messo un goccio Ok Guardate Ok ragazzi Di tanto Iniziamo a assaggiare Con l'ultimo goccio E' buonissima Ok C'è scritto Bevanda energetica Cassata Classica Perché è Levato tenore Di caffeina Ok Vediamo Che denti Hanno messo Acqua Zucchero Aldicificante Acido Citrico Anidride Carbonica Taurina Con l'acidità Citratisodio Aromi Caffeina Vitamine Niacina Acido Pantotenico Vitamina B6 Vitamina B12 Colorante E 133 Vabbè ragazzi Valore Un citrone per 100 ml Vabbè ragazzi Speriamo che questo video Vi sia piaciuto Con la bibita Di Tony F Quella azzurra Noi ci vediamo Come sempre Al prossimo Video Video